Dopo aver superato il turno di Coppa Italia, per il Pescara torna di stretta attualità il mercato. Nella settimana che porterei Biancazzurri al match del Rigavonti contro il Brescia, valevole per il terzo turno di Team Cup. Restano le uscite le priorità per snellire la rosa e per consentire altri innesti compatibili con il credo calcistico di Zeman. I nuovi caldi sono quelli di Memushay, Ben Ali e Biraghi. Tutti e tre, benché disponibili, non sono stati convocati per la gara con la Triestina, proprio perché con la valigia pronta, anche se va trovata la cosiddetta quadra, tutte le operazioni che li riguardano. Su Memushay c'è sempre il Sion, ma domanda e offerta tra Delfino e Delvetici restano ancora distanti, separati da mezzo milione di euro. Così, nelle ultime ore, si sta rifacendo sotto il Benevento, neopromosso in Serie A e allenato da quel Marco Baroni, che stima tantissimo il centrocampista albanese, dopo averlo avuto alle sue dipendenze proprio in riva all'Adriatico. Per Ahmad Ben Ali il futuro si chiama Sampdoria, dove ritroverà quel Marco Giampaolo che lo ha avuto per alcuni mesi con sé a Brescia. Il club di Ferrero sta ragionando sulla formula di acquisizione, prestito con diritto oppure obbligo di riscatto, e l'accelerata definitiva potrebbe giungere quando la Sampdoria avrà trovato sistemazione ad Alvarez e Duricic, che non rientrano più nei piani. Biraghi è invece vicino al Cagliari in una operazione, nella quale la società isolana inserirà come contropartita tecnica Antonio Balzano, che può così tornare a Pescara. Altre piste che possono portare a delle uscite sono quelle di Zampano, che interessa l'Udinese, e Fornasier, che da un paio di settimane è entrato nel mirino dell'Ascoli. Sul fronte delle entrate il nome caldo è quello del palermitano Carlos Embalo, attaccante esterno, che tra i rosa-nero rischia di non trovare spazio e che gradirebbe la destinazione pescarese, perché ha caratteristiche che il modulo zemaniano esalterebbe. Resta d'attualità poi Matteo Pessina, centrocampista ora di proprietà dell'Atalanta, che il Boemo vorrebbe per completare il pacchetto mediano. Si attendono ulteriori valutazioni del tecnico orobico Gasperini, per un giocatore che era entrato anche nell'ottica dello Spezia. Dal club Nerazzurro Bergamasco il Pescara potrebbe ottenere anche il giovane difensore centrale Bastoni.